Se finalmente sbloccata dopo un lungo tira e molla con il Torino, la trattativa per Daniele è vantaggiato, il bomber che il Padova inseguiva da diverse settimane. In tarda mattinata il giocatore ha firmato il contratto nella sede di Viale Nereo Rocco, prendendo subito parte l'allenamento del pomeriggio agli ordini di Mister Sabatini. L'ex centravanti di Rimini, Parma e Torino, che ha 25 anni, arriva a Padova dal Parma con la formula della comproprietà. Nell'ambito dell'operazione, costata alle casse biancoscudate quasi un milione e mezzo di euro, la società emiliana ha acquisito anche la metà del cartellino del giovane talento Pietro Baccolo. Nel curriculum di Daniele è vantaggiato, spicca l'esperienza a Rimini con ben 25 gol segnati in una stagione e mezza. A gennaio dell'anno scorso il passaggio a Parma, che lo aveva acquistato strappandola alla concorrenza di numerose squadre. Dopo un anno negativo spero che Padova sia il momento giusto per rilanciarmi e dare quello che ho sempre dato da altre parti. Come giudichi la rosa del Padova? Sei appena allenato questo pomeriggio per la prima volta. Durante l'allenamento non riesci ancora adesso, primo giorno, non riesci a vedere quello che è, però giocandoci contro e guardando la partita di sabato per me è una squadra molto competitiva che potrebbe fare molto bene. L'importante in questo momento è tirarci fuori dalla zona retrocessione perché è quella che ti mette un po' di paura e tu non riesci a dare quello che puoi dare. Se ti vuoi fare una promessa ai tifosi del Padova? Io in questo momento non voglio promettere niente, cercherò di dare una mano alla squadra e poi se verranno i gol sarò contento anch'io.